Buonasera a tutti, grazie da Ciamaraini, grazie di essere qui con noi questa sera. Io sono un po' emozionata insomma di essere accanto a lei e ancora più di introdurre questa chiacchierata e questa sua chiacchierata su Pierpaolo Pasolini. Il libro di cui parliamo questa sera si intitola Caro Pierpaolo pubblicato da Neri Pozza ed è un libro che ho letto ovviamente e che mi desta in questo momento per un verso un immenso piacere e l'onore di essere qui con lei. Per l'altro un po' di difficoltà. È un libro, perché? Perché è un libro al tempo stesso dolcissimo, dolcissimo. È molto delicato, è una materia delicata e quando lo leggi ti senti... Ecco, voglio precisare, non ti sembra di violare nulla, proprio per questa delicatezza. Di queste lettere che lei racconta a Pierpaolo sono lettere, che cosa sono? È un dialogo in realtà, più che un epistolario immaginario. Sono delle vere e proprie parole di un dialogo che forse non si è mai interrotto con lui. In certe pagine pare di star dentro un sogno. È fatto di sogni, ma di sogni condivisi, non sono sogni così, evocazioni di sogni. Sono sogni vissuti insieme a lui. Poi affronteremo l'aspetto, diciamo, intellettuale, quello che di lui ci manca in questo momento, ci è mancato in questi anni, come dicevamo prima, in un momento così destabilizzante per tutti noi, per il mondo, per l'Europa in particolare. Avere la voce di un intellettuale così destabilizzante come è stato lui sempre sarebbe una cosa provvidenziale, quanto ci manca la sua voce. Ecco, questo lo affronteremo, se sei d'accordo, dopo. Prima vorrei che tu ci raccontassi qualcosa d'altro, e cioè il segreto di questo libro è che, come dicevo, è delicato, ma non perché il lettore si senta, come dire, di entrare in un territorio che non è il suo, di violare qualcosa. È una delicatezza diversa, che non è fragilità, ma è proprio il senso di trovarsi di fronte a una storia di amicizia, di parole, di esperienze vissute insieme, che in fondo non è finita con la morte di lui. Però, ecco, quello che ti vorrei chiedere, nel contesto di questa sensazione di profonda intimità che trasudano queste pagine, che però non è l'intimità che il lettore sente di violare, spesso quando ti capita un libro davanti, quindi la violazione delle pagine è quasi il piacere, l'affondo in una storia che non è la tua. Qui non c'è affatto tutto questo, pur essendo un libro estremamente intimo. E allora ti chiederai innanzitutto di raccontarcelo e di raccontarci, se vuoi, che cosa ti mancò allora, quel giorno in cui lui morì, e cosa ti manca oggi di Pierpaolo, pur nella consapevolezza che queste pagine raccontano, sì, un'assenza, ma anche una presenza che condividi con il lettore. È difficile raccontare un libro. Comunque, questo libro nasce da un sogno, e per quello che i sogni sono così importanti in questo libro, perché appunto poco dopo la morte di Pierpaolo, io ho sognato, una sera io ero a casa mia a Roma, però premetto che noi abbiamo avuto una casa insieme a Sabaudia, e io stavo sotto, lui stava sopra, al piano di sopra, e spesso io sentivo lui che camminava, perché aveva questi stivaletti da gaucho, spesso, non sempre, ma insomma sentivo questo tacchettio, e così mi rassicurava il fatto che stava lì, camminava nella sua stanza. Ecco, un giorno, una sera, e mentre stavo nella mia casa di Roma, ho sentito di nuovo questo tacchettio, e dormivo però, insomma, è un sogno, vabbè, e allora ho detto vado a vedere, sono uscita sul terrazzo e c'era Pierpaolo, e io sono stata felice di vederlo, e lui mi ha detto, sono tornato perché voglio lavorare, voglio riprendere a fare film, e contemporaneamente io ho sentito accanto a me delle voci, e mi sono voltata, erano i suoi tecnici, quelli che insomma lo accompagnavano sempre, i quali gli hanno detto, ma no, Dasha, digli che lui è morto, e non può lavorare, e io ero molto imbarazzata, perché da una parte io lo sentivo vivo, e pensavo che veramente lui era tornato a vivere, a fare il suo lavoro di regista di cinema, e dall'altra parte loro continuavano a dire, no, non è possibile, insomma, erano così il buonsenso della tecnica, e allora no, la cosa curiosa è che Pierpaolo, mi diceva, sì, lo so che sono stato morto, ma adesso sono tornato, capisci? Quindi era consapevole, non era soltanto un fantasma. Quando io ho cominciato a pensare, adesso gli dico però, che deve mettersi d'accordo con i tecnici, eccetera, è sbanito tutto, è finito il sogno. Ecco, da questo sogno, sono poi nati tutti gli altri sogni, e quindi questo è stato un sogno importante, infatti mi ha talmente colpito, che poi mi è rimasto chiaro, limpido nei suoi dettagli. Allora, quando Cotroneo, Roberto Cotroneo, che dirige il Neri Pozza, mi ha chiesto di fare un libro su Pierpaolo, io gli ho detto, no, guarda, adesso poi usciranno centinaia di libri, perché c'è il centenario, e lui mi ha detto, ma no, ma tu devi parlare dell'amicizia, di qualcosa che non riguarda la sua storia, la sua biografia, il suo rapporto con l'Italia, ma proprio quello che voi avete fatto insieme. E allora io ho ricordato questo sogno, e ho detto, ma forse, forse sì, forse potrei in fondo parlargli. Faccio una parentesi, Elena, una parentesi. Io ho vissuto otto anni in Giappone, tu lo sai, quando ero bambina. I primi otto anni della mia vita sono stati molto importanti. E una cosa che ho imparato in Giappone è il rapporto con i morti, perché noi, noi occidentali, abbiamo un pessimo rapporto con i morti. Per noi i morti fanno paura, sono fantasmi. Addirittura c'è tutta una filmografia sui morti vampiri, vengono o vengono, succhiano il sangue. Quindi, secondo me, secondo me non è una cosa buona, perché è un segno che non abbiamo un buon rapporto con la memoria, perché non è questione dei morti, è questione nostra. Invece in Giappone, e questo l'ho imparato stando lì, in Giappone i morti sono delle presenze benigne, savie, perché hanno un certo distacco, e aiutano i vivi a vivere meglio, cioè danno dei consigli. E sono talmente importanti che in ogni casa giapponese c'è un piccolo altare dove si dà il mangiare, si mette il mangiare per i morti. Questa è l'antica religione shinto, no, giapponese. Poi a questa si è sovrapposta e il buddismo, però il buddismo è venuto dopo, è una sovrapposizione. Loro saggiamente, in maniera curiosa, hanno messo insieme, in ogni casa c'è un Buddha e poi l'altare shinto, il culto degli antenati, no? Però ecco, questa cosa è rimasta. E io mi ricordo di essere stata in queste case dove vedevo sempre questo rapporto simbolizzato, ma insomma è importantissimo il rapporto con i morti. Ecco, un po' di questo c'è anche in questo libro, questo volevo dire. Ci ho pensato dopo, perché lì per lì non ci ho pensato, però dopo, siccome tutti mi chiedevano ma perché allora tu scrivi a un morto, pensi che sia come se ti potessi ascoltare, ci fosse un al di là? No, è una questione nostra. Il nostro rapporto con i morti non ha niente che vedere con il destino dei morti, non è quello, non ci sono, però ci siamo noi, cioè siamo noi che creiamo un rapporto con la memoria, è un rapporto con la memoria, no? Ecco, allora io ho lavorato su questo e devo dire che più scrivevo e più venivano fuori delle memorie che io avevo accantonate, no, forse dimenticato, non lo so, messo quasi dimenticato, quasi dimenticato. e questo mi ha fatto capire che forse allora c'era una necessità, no, di fare questo libro, non è solo occasionale, c'era proprio una necessità profonda, quella appunto di suscitare il passato dentro come un elemento di legame, di conoscenza, di amicizia. certamente infatti la domanda che volevo porti subito dopo riguarda questo, ma prima ancora tu hai parlato di memoria e anche in fondo di obbligo, ecco, come e perché in fondo Pierpaolo Pasolini è stato rimosso un po' dalla nostra memoria, dalla riflessione intellettuale, dalla politica. Sì, sai cos'è? Pasolini è stato molto odiato proprio dalla società italiana, probabilmente anche perché circolavano delle informazioni secondo me sbagliate su di lui. Siccome lui era una persona divisa, nel senso che quando scriveva saggi e quando scriveva di politica era molto provocatorio, molto duro, a volte anche aggressivo e soprattutto provocatorio. Mentre nella vita privata era una persona dolcissima, era una persona mite, era una persona che io non gli ho mai sentito dire una parola rabbiosa, un insulto, non gli ho mai sentito alzare la voce, era uno che non avrebbe ammazzato una mosca, era vero. Allora però siccome la gente lo conosceva soprattutto attraverso i suoi scritti pensavano che nella vita fosse come nei suoi scritti, capisci? questo creava su di lui, intorno a lui una visione, un'immaginazione che secondo me lo mortificava perché non era la sua parte più importante, capisci? Però era quella più conosciuta e su questo molta gente si è tirata indietro, poi dobbiamo anche pensare gli anni in cui lui ha vissuto, dobbiamo pensare che erano gli anni della censura, erano gli anni del rinforzamento della democrazia cristiana, erano gli anni dell'amoralismo, ricordiamoci che lui ha avuto 81 denunce e queste denunce venivano da famiglia, non è la famiglia cristiana quella che conosciamo noi, si chiamavano denunce di famiglie cristiane, cioè erano evidentemente non lo so, organizzazioni ecclesiali che si mettevano d'accordo con le famiglie e gli facevano la denuncia, capisci? Denunce per oscenità, denunce per eresia, denunce delle cose incredibili, quel ragazzo che l'ha denunciato perché ha detto che lui l'aveva sequestrato e minacciato con una pistola d'oro con le palle d'oro, da dove veniva poi tutto questo, capisci? Però faceva la denuncia allora poi bisognava seguire, poi è sempre stato assolto, devo dire, per fortuna, però però si è creato questo clima, questo clima, ti ridico un episodio che per me è stato rivelatore, una sera eravamo a teatro al Quirino a Roma e durante l'intervallo siamo andati al bar del teatro ed era pieno dei spettatori, c'era la folla degli spettatori. Quando Pierpaolo e io ci siamo avvicinati al banco per ordinare un caffè io ho visto immediatamente la gente che si è allontanata come se avessero visto un appestato. Guarda, per me è stato un trauma, una cosa che non avevo immaginato perché non è che erano ragazzotti di strada che lo volevano prendere in giro oppure ce l'avevano con lui, non erano, erano dei normali spettatori di teatro. Questo ti fa capire il clima, capisci? Cioè lui è stato denigrato, isolato e poi ucciso che secondo me è un sistema che purtroppo nel nostro paese ha visto altre situazioni. Uno, per esempio, per DN1 Falcone. Falcone è stato denigrato, è stato insultato, è stato denigrato soprattutto, gli hanno detto che si era messo la bomba da solo, poi è stato isolato e poi attaccato. Quindi è un sistema, è un sistema e io credo che hanno fatto circolare una serie di informazioni sulla sua vita facendolo passare per un violentatore, un predatore, un eretico, un violento, cosa che assolutamente non era, conoscendolo lo sapevo benissimo e poi quando l'hanno isolato poi alla fine l'hanno ucciso. È un metodo, capisci? Questo è molto triste e poi dobbiamo sempre riflettere sul fatto che non si sta parlando di secoli fa, questa era l'Italia di non tantissimi anni fa, non tanti anni fa. Quindi da una parte dobbiamo anche come dire sentire con un sorriso quello che è cambiato in questi anni dall'altra dobbiamo stare in guardia cioè pensare che sono cose davvero dietro l'angolo del tempo. Ma c'è un'altra cosa sulla quale vorrei ascoltarti e chiederti e cioè Pasolini era un intellettuale, un uomo complesso. complesso perché era un regista, un poeta, un intellettuale militante, un narratore e ecco quel tipo di intellettuale lì che adesso torno col mio tormentone Carlo Leviano ma anche Carlo Levi era un intellettuale così a parte che non amava e forse neanche Pasolini la definizione di intellettuale, non so però erano entrambi uomini molto curiosi e molto aperti alle esperienze artistiche, letterarie, intellettuali più varie perché non esiste più un eclettismo di questo tipo? Perché dobbiamo ripensare a Paolo Pasolini orientandoci su diversi aspetti del sapere, del conoscere, del dire che è un po' straneante perché non abbiamo più gli elementi per affrontare delle figure così complesse. Ma non credo che sia una questione personale, io credo che sia cambiata la cultura, il rapporto del popolo, della popolazione con i suoi che dovrebbero essere rappresentanti. si è negata la funzione di chi rappresenta e questo è successo anche in politica, lo sapete tutti, anche in politica non esiste più l'idea della rappresenta, non si rispetta più, perfino è successo nella scuola. Tutti i miei amici che ho, che insegnano, e sono tanti, mi raccontano delle cose raccapriccianti di padri, madri, di ragazzini che hanno avuto un brutto voto che vanno lì a picchiarli, a insultarli, gli fanno il processo, gli fanno la denuncia, delle cose che non sarebbero mai successe una volta, no? E che cosa è dovuto a questo? È dovuto a una dissacrazione, cioè le istituzioni sono importanti e si può naturalmente prendersela con chi tradisce un'istituzione, con chi si comporta male, ma l'istituzione andrebbe salvata in una democrazia, le istituzioni sono fondamentali, invece noi prendendosela con certe persone, con la corruzione, eccetera, abbiamo messo in gabbia, non so come, abbiamo dissacrato le istituzioni, cominciando dalla magistratura, perché anche la magistratura in questo momento ha perso il suo prestigio, e così la scuola, e così la letteratura, tutte le istituzioni, dico non soltanto ufficiali, le istituzioni che importanti in un paese sono state, hanno perso la loro legittimità e questo funziona anche dal punto di vista intellettuale, secondo me, e quindi quello che erano i valori condivisi che mettevano insieme, univano gli intellettuali, e appunto Carlo Levi che tu giustamente vuoi rivalutare, io sono d'accordo con te perché è un uomo meraviglioso, ha scritto le cose bellissime, e adesso non c'è più, c'è una dispersione, è anche molta frammentazione, è anche molta rissa che non c'era prima, l'individualismo è rissa, tutti uno contro l'altro, questo è un po' il risultato di questa dissacrazione secondo me delle istituzioni che è stato fra l'altro un errore, un errore politico gravissimo, capisco che ci sia arrivati dopo tutta una serie di scoraggiamenti, di delusioni, di fallimenti, però in una democrazia se tu in qualche modo squalifichi le istituzioni è finita la democrazia, questo è il punto, allora ricreiamola, questo dovrebbe essere oggi quello che noi dovremmo proporci di ricreare dei valori condivisi, cioè una democrazia fatta di istituzioni valide che funzionano, non ci siamo in questo momento, però dovrebbe essere questo, ora Pierpaolo in qualche modo pur essendo un anarchico profondamente anarchico, pur essendo un uomo che contraddiceva tutto, che il suo metodo era appunto la provocazione, però nonostante questo faceva parte di una intellettualità che si riconosceva come tale, cioè l'identità lui la ritrovava in se stesso, quello che tu dicevi prima. sull'antifascismo perché pochi come lui hanno capito non tanto il fascismo e l'antifascismo che aveva alle spalle ma quello che latitava, anzi era latente più che latitava nel dopoguerra e che ha continuato in fondo a rappresentare una minaccia e che guarda caso ritroviamo adesso dopo decenni però in quello stesso tessuto in cui siamo nati, cresciuti e abbiamo letto le pagine che abbiamo letto e io credo che le sue pagine sull'antifascismo siano qualcosa di straordinario e straordinariamente minaccioso perché dunque lui cercava l'autenticità e l'aveva trovata o scoperta o sì l'aveva trovata nel mondo contadino che lui diceva che nonostante le violenze le contraddizioni però era un mondo genuino e appunto autentico anzi io direi che lui cercava l'autenticità in due aspetti quello l'autenticità della sua infanzia che ha rincorso sempre che è stata la sua dannazione perché poi è rimasto bloccato anche dal punto di vista sentimentale erotico a questa ricerca fannosa dell'infanzia no e dell'adolescenza e la cercava nella società italiana e poi ha detto a un certo punto ha detto che ormai era persa la società italiana perché dal mondo contadino era passato a un mondo industriale borghese corrotto ipocrita falso e è quello che lui detestavano tutti i nostri viaggi che facciamo in Africa che venivano da lui perché poi era lui che aveva questo piacere di andare in Africa era proprio di dire c'è ancora una parte del mondo in cui forse esiste esiste una cultura genuina popolare innocente in un certo senso un po' alla candide volteriana e lui ha sempre cercato questo infatti i suoi viaggi non aveva mai fatto un viaggio non so a New York oppure in Germania andavamo sempre siamo andati in Nepal siamo andati in Afghanistan siamo andati in Africa e sempre cercando quella purezza che poi era un sogno insomma era un mito in realtà perché poi non esiste probabilmente però lui la cercava sempre ecco questo è stato un po' l'itinerario suo è la ragione per cui è sempre ha cercato ha cercato questa innocenza questa purezza in popoli arcaici insomma in qualche modo che non erano ancora industrializzati per girare il suo Vangelo no? sì anche il Nepal quando siamo andati nel Nepal la prima volta effettivamente io sono rimasta molto impressionata perché il Nepal era un paese poverissimo poverissimo tu pensa che a un certo punto io vedo uno che cammina con una catena attaccata alla caviglia è una palla di ferro no veramente allora ho detto perché perché cos'è questa sembrava una caricatura ma mi ha detto non abbiamo prigioni e quindi vei prigionieri ma capisci il medioevo qualche cosa di talmente fuori dalla realtà però era così era così e poi non so ecco le persone andavano a piedi scalzi avevano un rapporto con gli animali che vivevano la stessa casa insomma c'era qualche cosa che gli ricordava il mondo arcaico contadino friulano che lui aveva amato e che non c'era più che aveva perduto come succedevano questi viaggi era lui che diceva andiamo di qua e poi cosa succedeva fra voi parlavate vi scambiavate impressioni qualcuno decideva e qualcuno raccontaci un po' come era viaggiare con Pasolini no era il viaggio era meraviglioso era un compagno di viaggio meraviglioso perché non si lamentava mai ecco premetto che noi facevamo dei viaggi non da turisti cioè fuggivamo i grandi alberghi le strade asfaltate andavamo con la Land Rover proprio nelle piste oggi però non si potrebbe più fare perché oggi è diventato un mondo molto pericoloso l'Africa per via del fanatismo religioso ma allora non era così era un mondo molto molto più antico preservato da questo punto di vista e c'erano dei villaggi veramente dove magari non avevamo mai visto un turista dove ecco ti racconto una cosa per capire un giorno noi andavamo sempre con queste Land Rover in mezzo alla savana in posti proprio dove non c'era strada non c'era niente capitiamo in un villaggio proprio fuori dal mondo dove vediamo che c'è un assembramento di persone e ci siamo fermate per curiosità molto tranquillamente ci siamo avvicinati e c'era seduto sotto un albero appoggiato all'albero un uomo tutto vestito bene e accanto tutta una folla andando poi piano piano abbiamo capito che questo uomo appoggiato all'albero era morto era un morto e quel il santone che gli stava vicino lo interrogava interrogava il morto e gli diceva chi ti ha ucciso perché poi loro c'è sempre l'idea che no che non c'è la malattia c'è sempre qualcuno che ha voluto e allora lo tirava dalla giacca e se il morto cadeva la testa da una parte voleva dire sì se cadeva dall'altra voleva dire no no per dirti capisci le cose che noi incontravamo in mezzo alla savana delle cose più incredibili e siamo rimasti lì affascinati a guardare questo poi l'autista che guidava la nostra Land Rover ci ha spiegato che appunto come avveniva questo interrogatorio ed era importantissimo perché doveva stabilire che aveva ammazzato anche se non l'aveva ammazzato ma c'era la volontà di ammazzare comunque interrogare un morto una cosa abbastanza curiosa e così tanti altri episodi che poi io ho raccontato e questo era il suo interesse per l'Africa veniva da questo bisogno di riscoprire un paradiso perduto in fondo era questa l'idea che poi naturalmente non esisteva questo paradiso non esisteva lui si decideva lui poi però l'organizzazione era anche reciproca poi spesso si decideva mentre eravamo in viaggio dove andare cioè non erano quei pacchetti organizzati niente di organizzato a volte siamo trovati a dormire per terra appunto nello Yemen per esempio siccome non c'erano alberghi abbiamo dormito in una foresteria per soldati dove c'erano solo delle lettighe non so come si chiamano dei lettini di tela e poi un solo bagno dove non c'era neanche acqua calda capisci? per dire oppure in tenda oppure in una missione quindi le nostre erano viaggi veramente molto avventurosi capisci? però questo a lui piace non tanto l'avventura quanto scoprire l'arcaicità di certe zone del mondo dove per lui esisteva ancora qualcosa da recuperare da vedere poi poi decidavamo insieme dove si andava quanto si doveva rimanere però si per lui era probabilmente la guida la guida diciamo di questi viaggi africani lui li faceva per un bisogno personale di tornare indietro o anche come ispirazione nel senso parlavate di cioè lui vedeva qualcosa che poteva diventare un'idea no sì pensavo in termini cinematografici questo sì siccome lui faceva preparava dei film pensava cioè andava a cercare i luoghi dell'innocenza e della purezza simbolica ma nello stesso tempo questi luoghi ma non era una cosa meccanica questi luoghi lo sollicitavano a fare dei film infatti poi molti suoi film sono stati fatti proprio nello Yemen in Africa in tantissime parti africane la Medea il Cristo come si chiama il Vangelo secondo Matteo eccetera insomma molti film li ha girati poi in questi posti capisci quindi c'era la doppia doppia idea sia di cercare qualcosa che non c'era più in Italia ma anche l'idea che questi luoghi così in qualche modo diversi e che conservavano la loro purezza potevano diventare i luoghi dei suoi film ma non era una cosa meccanica era una cosa cioè era la sua passione che lo portava a a a cercare questi luoghi certo e poi vorrei tornare sul tema dell'amicizia perché poi è al cuore di questo libro e al cuore di fondo delle parole che di tutti di tutte le parole che che usi quando parli di lui però un'altra un'altra curiosità che ho da te è che appunto Pasolini è stata una figura molto complessa molto versatile molto eclettico ma tu hai parlato della sua natura provocatoria però l'impressione di una lettrice comune come sono io è che questa provocazione non fosse mai fine a se stessa nel senso che era un uomo che avrebbe voluto cambiare la realtà anche se non si può definire un politico nel senso tradizionale ecco io vorrei provare a proiettarlo oggi facciamo un esercizio di utopia certamente poi lui in questo in questa ricerca di una purezza c'era anche un'idea poi cristiana perché lui in questo era molto infatti non è un caso che ha fatto un film su Cristo c'era anche l'idea cristiana degli umili quindi spesso quando lui diceva io sono io sono marxista o io sono comunista è stato comunista poi è stato cacciato dal partito comunista per indegnità pensate anche il trauma terribile comunque quando diceva io sono comunista lui più che in termini di classe pensava in termini di umili capisci quello che vuoi dire quindi è un insieme abbastanza complicato di cristianesimo e di marxismo che però poi veniva fuori in certe prese di posizione lo si vede dai suoi film non so la ricotta per dire il l'uomo qualsiasi l'uomo il popolano che va a finire sulla croce perché ha mangiato troppo e poi muore sulla croce era anche un modo di rivedere la figura di Cristo facendo anche una critica sociale era certamente la sua idea degli umili forse anche un po' tostoiana se vogliamo c'era molto forte in lui molto forte più che la classe che la lotta di classe e per questo che i comunisti un po' l'hanno sempre temuto da questo punto di vista poi hanno trovato l'occasione della denuncia perché lui è stato denunciato ma quando era ancora insegnante a Casarsa è stato denunciato perché si è allontanato con dei ragazzi ma lui era giovanissimo quindi erano tutti i ragazzi e hanno fatto dei giochi erotici ma niente di predatorio niente di violento però uno di questi ragazzi ha parlato con un prete e da lì è venuta fuori una denuncia e poi lui è stato cacciato dal partito comunista e poi cacciato dalla scuola capisci che sono cose gravissime e lui lì in una piccola città dove tutti lo vedevano come il demonio ha preso la madre ed è venuto a stare a Roma capisci però l'inizio è questo proprio l'incomprensione il fastidio di questo suo comportamento che era però non era mai appunto come ho detto non era mai basato sulla violenza e questo ci è voluto tanto per capirlo quello che emerge continuamente in questo libro è il tema della gentilezza di come tu racconti lui e di come lui viene fuori da queste pagine che è un po' il contrario della vulgata che ci è passata su di lui e lo so appunto perciò dico in un certo senso si può dire si potrebbe dire che la società italiana avendo accettato quella vulgata di cui parli tu in qualche modo l'ha messo fuori l'ha escluso l'ha isolato e poi qualcuno ha pensato di finire e di ucciderlo secondo me un'altra cosa che crea scandalo ma anche è profondamente impregnato nel carattere di Pasolini è quello di vivere le proprie idee col corpo quello è la cosa perché di solito le persone hanno una identità intellettuale ma poi si parla anche di privacy eccetera ma poi il loro corpo è assente non c'è lui parlava le sue idee passavano attraverso il corpo questo ha fatto sì che a un certo punto per farlo tacere hanno dovuto massacrarlo capisci? questo è il punto specifico di Pierpaolo secondo me che è molto è molto originale non è una cosa comune non è una cosa comune ed è avveniristico in un certo senso perché pensa come oggi è attuale all'ordine del giorno urgente il tema del corpo del riconoscimento del corpo è quello che dico oggi forse lui si troverebbe più a casa un po' più a casa nel mondo forse sì è vero hai ragione che oggi il corpo è diventato molto importante anche perché viviamo in una cultura visiva in cui tutto diventa visivo tutto diventa immagine e quindi probabilmente questa parte importante della in cui la parola si fa corpo è probabilmente oggi sarebbe più normale allora però era visto come un vizio come un pericolo questo credo che l'abbia messo in una condizione di difficoltà estrema che poi appunto è finita con la morte però io ci tengo a dire perché l'hanno scritto e l'hanno detto anche i suoi amici che lui voleva morire l'avrai sentito anche tu c'era questa teoria che in fondo lui si è apparecchiato alla sua morte io su questo non sono assolutamente d'accordo io penso che lui invece amava molto la vita però sfidava il pericolo questo è vero cioè sarebbe come dire che uno va uno scalatore per esempio va a fare gli 8000 metri in Tibet e dice vuole morire no non è che vuole morire vuole vivere proprio perché vuole vivere vuole sfidare il pericolo vuole andare a sfidare il pericolo naturalmente ci può anche morire e questo è successo a Pierpaolo cioè lui sfidava la morte sfidava il pericolo ma non è che voleva morire non voleva morire non bisogna confondere le cose capisci il messaggio pubblico che è passato alla sua morte me lo ricordo era una cosa ineluttabile era come se fosse una cosa che doveva succedere c'è che lui si era già preparato e che l'ha voluta lui insomma questa è stata la vulgata io conoscendolo bene so che non era così perché invece lui amava molto la vita però appunto come alcune persone fanno e lo sappiamo perché succede in tanti campi lui sfidava i pericoli capisci però era un atto di vita non era un atto di morte questo ci tengo a dirlo perché molti teorizzano l'hanno teorizzato anche anche dei grandi giornalisti scrittori saggisti l'accupio di Solvi che lui si è preparato alla sua morte doveva morire così è andato lì e è morto così non è così almeno questa è la mia parere però però ci tengo a dirlo perché lo credo fermamente invece che era molto molto attaccato alla vita beh grazie dacci ancora qualche parola sulla vostra amicizia e poi e poi e poi e poi ti applaudiamo è un'amicizia che è nata un po' per caso questo l'ho detto spesso e lo ripeto il mondo artistico si ritrovava per il piacere di ritrovarsi capisci oggi ecco vedi con te mi fa molto piacere vederti ma io conosco tutti gli scrittori i musicisti i pittori ma l'incontro sempre con una funzione come oggi con te una presentazione un convegno la fiera del libro una cosa televisiva ecco c'è sempre uno scopo allora c'era questa bellissima abitudine questa prassi per cui ci si incontrava per piacere di incontrarsi senza uno scopo sembra niente ma invece è importantissimo così infatti ho conosciuto Pierpaolo senza uno scopo e piano piano è cresciuta questa amicizia soprattutto con i viaggi i viaggi sono stati fondamentali naturalmente io l'ho frequentato nell'ultima parte della sua vita da quando lui aveva 45 anni fino a quando è morto e tutto quello che è successo prima non l'ho vissuta però poi lui ne ha parlato poi ne ha scritto poi insomma lo sanno tutti però io posso testimoniare di quel ultimo periodo della sua vita siamo diventati piano piano amici poi a un certo punto quando io ho pubblicato il Memorie di una ladra lui mi ha detto sai che questo è un libro picaresco cioè sto facendo un film proprio picaresco che era appunto Il fiore delle mille e una notte e mi ha detto vuoi aiutarmi a scrivere la sceneggiatura e allora lì abbiamo preso in affitto una casa a Sabaudia e devo dire che lui era uno stacanavista come pochi e è bello che lui mi ha detto guarda che lavoreremo molto sì dico vabbè immagino no dice guarda che tu rinuncia a qualsiasi cosa forse anche di notte io pensavo che lui scherzasse invece poi veramente due o tre volte mi ha svegliato alle due di notte perché gli era venuta un'idea su Zumurrut che era poi la la schiava che era il centro del film e lavoravamo dalla mattina alle sette fino a mezzanotte senza andare il mare era lì a dieci metri mai fatto un bagno mai messo un piede nell'acqua perché perché lui doveva finire la sceneggiatura in quindici giorni che che è poco è poco di solito ci si mette mesi e mesi a volte anche un anno invece era una sceneggiatura che doveva essere fatta rapidamente e devo dire che è stato bravo ci siamo però però un lavoro faticosissimo poi appunto poi però io non l'ho seguito non è che l'ho seguito sempre però lui ha usato per per esempio per filmare questo questa sceneggiatura ha usato dei luoghi dove eravamo stati insieme capisci poi ci è tornato la cosa curiosa è che il film in Peppare che era del 73 e poi l'ultimo film che lui ha fatto invece era esattamente il contrario perché il Fiore e una notte era un film della gioia di vivere dell'allegria della festa erano tutte storie fiabesche ma basate sulla gioia di vivere invece l'ultimo film è stato un film molto drammatico perché secondo me lui veniva continuamente offeso dai cambiamenti che secondo lui stavano corrompendo distruggendo il nostro paese dal punto di vista culturale ma anche etico estetico anche anzi direi molto estetico perché sono gli anni in cui c'è stata la rapina del territorio ricordiamoci tutto quello che è stato distrutto del nostro paese le coste tutto quello che è stato distrutto costruito di di quegli anni quindi lui era un rivoltato profondamente indignato profondamente innamorato di un'Italia che non esisteva più però come ho detto quello che costituisce la sua originalità è di aver vissuto tutte queste passioni col corpo e lì è lì il punto e secondo me l'hanno massacrato per questo perché se no un altro intellettuale non veniva in mente perché bisogna ammazzare un intellettuale capisci e lì c'è stato qualche cosa che ha una licenza anche da parte della società italiana di di uccidere grazie